Siamo all'evento HP Brevi di Nembro e a Nicoletta Chiminello responsabile di divisione mobile di Brevi chiediamo innanzitutto come sta andando il business mobile in Brevi. Il business in Brevi per quanto riguarda la divisione mobile sta cambiando nel senso che è molto focalizzato quindi è un segmento che continua a crescere e nel corso degli ultimi mesi abbiamo raggiunto picchi di fatturato dedicati proprio al segmento mobile quindi tutta la parte notebook e tablet che supera il 23-24%. Il mercato nell'ultimo anno e mezzo ha subito dei grossi scossoni per quanto riguarda la parte componenti ed è andato a stabilizzarsi mentre è a crescere per quanto riguarda la parte mobile e anche la parte desktop brand. Cosa state facendo per i vostri partner in ambito mobile? Allora in ambito mobile stiamo innanzitutto seguendo quelle che sono le richieste dei partner stiamo notando che la crescita non è solo una crescita in numero di pezzi ma è una crescita di livello di prodotto quindi la richiesta è di prodotti più performanti che vadano ad adattarsi meglio a quelle che sono le richieste di risoluzione di problemi o di ottimizzazione di problemi per quanto riguarda l'utente finale quindi il dealer ci trasmette la richiesta dell'utente finale di prodotti più performanti e con caratteristiche specifiche di un certo tipo e noi li seguiamo dando loro la possibilità di arrivare al brand e quindi di poter attingere a una determinata linea di prodotti Cosa state facendo con HP? Allora noi con HP abbiamo incominciato molti anni fa abbiamo rafforzato nel tempo il nostro rapporto di partner li seguiamo in tutti i loro segmenti quindi siamo distributori per la parte mobile in modo molto importante ma anche per la parte desktop li seguiamo sulla parte consumabile e anche sulla parte stampanti loro di Contor ci danno la possibilità di commercializzare il loro prodotto e quindi riconoscibilità del marchio ma soprattutto la possibilità di attingere ad una gamma assolutamente completa quindi un dealer che deve fornire delle soluzioni può venire da noi e essere rifornito dalla parte mobile alla parte printing fino ad arrivare a quella server non dimentichiamocela che si sta sviluppando in modo considerevole all'interno della breve SPA Ecco, hai accennato a parecchi cambiamenti nell'ambito mobile come stanno ricevendo questi cambiamenti la vostra rete di cash and care? Sì, questa è una cosa molto importante nel senso che cambia il prodotto cambiano le caratteristiche cambia il modo di proporlo dobbiamo riuscire a trasformarci dal semplice box mover quindi l'operazione, il modo in cui veniva visto fino a poco tempo fa il distributore era proprio questo cioè venivamo riconosciuti come dei box mover in questo momento invece il dealer ha bisogno di ricevere informazioni ha bisogno che la nostra forza vendite gli spieghi i prodotti quindi noi stiamo da un lato formandoci grazie ad HP ad esempio anche a molti webinar che fanno per tutta la nostra forza vendite per riuscire a proporre il prodotto nel modo corretto al nostro dealer che sappia poi avendo una conoscenza specifica delle macchine andare a proporle all'utente finale corretto la richiesta è quella di non essere più vittime passami il termine della tecnologia ma di sfruttare sempre di più la tecnologia per risolvere i propri problemi che siano lavorativi o anche personali perché poi sappiamo che attualmente quello che si chiede a un prodotto è di esserci utile in ufficio e a casa sono nati gli Smart For Factor The Touchball quindi nel momento in cui mi serve lavorativamente lo utilizzo con la tastiera nel momento in cui ho bisogno di mobile estremo e magari è una cosa un po' più personale stacco ed ho uno stesso prodotto con gli stessi dati che uso nella vita personale e nel lavoro e poi abbiamo la nostra Brevi Academy attraverso la quale tutte le nostre conoscenze vengono trasferite ai dealer di modo tale che possano avere un panorama completo del prodotto e delle caratteristiche tecniche per cui diciamo che Brevi aggiunge molto valore all'offerta Mobility e chiede ai partner al canale di iniziare a vendere il valore assolutamente sì chiede ai partner di venderlo perché ci siamo resi conto anche con l'aiuto di brand come HP che è l'utenza finale che ci chiede questo cioè l'utenza finale non è più disposta a spendere di meno per avere di meno preferisce spendere di più ma per avere molto di più il valore aggiunto che viene dato da questo tipo di prodotti e dalle loro caratteristiche viene valutato nel modo corretto quindi si cerca il prodotto giusto si spende di più ma si è certi di avere un ottimo risultato questa chiacchierata sono usciti i temi importanti saranno i temi che poi voi proporrete al vostro meeting interno sì noi siamo pronti per riproporre il nostro meeting quindi la nostra riunione con tutta la forza vendita e tutti i cash and carry il nostro intento è proprio questo vogliamo trasferire un messaggio ben preciso il messaggio è cambiamento i nostri cash and carry già lo sanno ma a noi piace ritrovarci tutti insieme fare il punto della situazione e decidere insieme come affrontare il periodo forse più importante dell'anno che è Q4 e quindi l'ultimo il rush finale di fatturato sul quale contiamo sempre e vogliamo essere pronti